Signore e signori buonasera GTA Online siamo noi e io credo che questa potrebbe essere davvero l'ultima missione di Dax in cui tra l'altro Non so perché In cui tra l'altro potremmo finalmente adocchiare anzi utilizzare Oh perché c'è gente qui? Perché c'è gente da uccidere? Elimina i membri della banda avversaria con molto piacere Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Morto qualcun altro? No dico c'è qualcun altro? Vicino a Dax nessuno può starci Oh cazzo Fatto male Pieno di gente eh Mica quanti cazzo sono? Eh no eh Brutta roba Brutta roba Chi c'è? Chi c'è? Oh 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 Un bro mi spara Ancora vivo? Ancora vivo Ok Ah la madonna è pieno di gente Non pensavo fosse una banda così organizzata Pensavo fosse una cazzatina Vicino a Dax così Ok Pensavo che c'è il mio Super MKXYMG La combattimento Ogni volta c'è sempre Qualche lettera in più Tratto mancano nove rimanenti Che cazzo arrivano Lo sanno solo loro Potete andare a cazzo duro e beccarli A parte che c'hanno loro lay ground E non è una cosa positiva questa eh Non è quasi mai una cosa positiva Oh Oh Allora uno è morto Quello Andiamo un secondino Eh mi sto facendo fuori tutti i bot anti proiettile Non è positiva come cosa Aspetta eh saliamo un po' Tu muori Tu muori Qualcuno qui? Guarda è pieno Guarda è pieno Guarda è pieno Dov'è? Dov'è? Uno due tre Tutti morti? Easy Un altro lì Ne mancano due all'appello E sono in lontananza Guarda ricarico l'MG E faccio PEM 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 E abbiamo vinto Fantastico Attacco banda Vittoria E così che si fa eh Les Gorski Contagiato Colpi da testa solo due E mi dispiace Non sapevo che dirti Mi mettevo in lontananza Col cecchino Te li facevo anche tutti Colpi in testa Però Ho bruciato Un po' troppi Un po' troppi Ehm Giubbotti antiproiettili Forse eh Per i miei gusti Fortunatamente posso comprarne uno nuovo Da Dax Ti direi di sì Allora Speriamo che non sia una missione troppo complicata Cioè oddio Mi auguro Un po' di sì E un po' di no Di no perché non ho abbastanza Giubbotti antiproiettili Secondo me Di sì perché così è almeno divertente Eh Che cazzo Allora Giocare ultima dose Terapia d'urto Eh va bene Terapia d'urto Immagino che sia una roba bella impegnativa Tra l'altro stiamo andando con Dax Perché al telefono mi ha detto Ah guarda che andiamo No Non mi fa comprare un nuovo giubbotto Dobbiamo andare lì Chiudere baracca e burattini Secondo me facciamo esplodere tutto La butto così Vai Oh Dax dimmi tutto Freed fucker Vai Andiamo a spaccarli Entro con Dax Nel camioncino Sono messi Oh Sto partendo senza di me Ok lo seguiamo Segui Dax A parte potevi anche Mettere una destinazione Non so perché proprio Dax Devo seguire Che non mi sembra proprio La meglio cima Del traffico Guarda come cazzo guida Beh anch'io non è che sia Da me Da meno Ehm Presso tutto infangato Non so che è successo Va bene Andiamo Andiamo dritti Vai Dax Sono sicuri che devo seguire Dax Scusa posso mettere come destinazione Mi fa fare la stessa strada in effetti Va bene Va bene Vai gira a sinistra Dax No Hai sbagliato strada Vabbè Io seguo Dax Perché Non è la strada migliore Però seguiamo Dax Ma è da solo? O c'è anche Lucio Luciadora Ah il Luciadora che guida Ok Non voglio dire niente con questo Ci mancherebbe Però Bro stai sbagliando strada Ma che E vabbè Non c'era il navigatore Non ha messo Google Maps Oh se non giri a destra ora mi incazzo Non è che stiamo facendo un tour panoramica Stiamo andando ad ammazzare gente Ah ok No e invece no neanche Non so che stara sta facendo Gira a destra? No E invece si No e invece no Eh non si capisce nulla Ma poi cioè io non andrei mai a fare una missione questa roba qua Gli fanno Cioè la fanno esplodere in 12 pezzi Va bene Clicca di riabilitazione Ma vediamo Gira a destra Dobbiamo salire a una certa Non ce la fa Non ce la fa Seppure è fermato a rosso Ah alleluia Potremmo metterci molto di meno eh Te lo dico Lucia Se ti fermi a rosso mi incazzo Ah ecco Forza La vera missione è riuscire a sopravvivere a questo viaggio Ti giuro non sono mai andato così lento Per raggiungere il punto di una missione Sta salendo Il famoso latte alle ginocchia Bella quella macchina Lo dico sempre Però non la compro mai Ma probabilmente ce l'ho già Sicuro Oh sento già sparare Ma come? Ma che succede? Dax ma non è che mi hanno dato anche dei mercenari? Che succede? Ma cosa sta tenuta? Ah Qua stanno già sparando? Ah ma c'è già gente nostra Ah ok Ora si che prima no Allora vediamo un po' Chi posso ammazzare? Forse potrei anche cecchinare Oh Dax ma sei Guarda ma hai investito? Ma hai investito Io non ho parole Guarda Bam 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 Oh ma quanta vita c'hanno? Sto sciuttando in testa eh Non muoiono? Nessun problema Ragazzi Facciamo troppa vita Decisamente troppa vita Ok No Cioè l'ho preso in testa ragazzi Quanta vita hanno? Segui Dax fino alla clinica L'ho seguito Ah forse non conta Forse devo entrare Per quello non me lo fa uccidere Ok Li rompi nella clinica dalla stanza principale Ora Posso prima Uccidere i maledetti? Ah ora si eh Vedi era bugato Aspetta guarda come si gira Guarda come Guarda come ora Bam In testa Ah chi c'è di qua? Boom Morto Poi Qualcun altro? No dai luce ad ora Qualcun altro? Oh qualcuno lì Aspetta dai un secondo che si alzi Dai un secondo Dai un secondo Mostra la testina Pezzo di merda Non ce la fa Chi altro c'è qui sopra? Qualcuno? Non vedo nessuno Prendiamo l'MG E si fa Ah cazzo duro Giusto? Ah ora si vedi come muoiono Forza Girati un po' Vediamo colpicino Vieni qua C'è un altro bro qua Ma gli diamo un colpicino così E siamo contentissimi Perfetto Tutti dentro raga Forza un po' Non è che mi lasciate da solo? Ah vai Dax Cazzo duro Che clinica è poi? Questa è una villa Altro che clinica La clinica dei VIP tipo Probabile Oddio no Che è successo? Oh merda Perché c'è una freccia Oh Dio Ma le fa infazzire Eh mo Ma è brutta Mo è brutta Che devo fare? Cosa Cosa devo fare? Morca vacca Oh l'usciadora Ah Vole proprio circo Eh me la sento un po' Oddio Ecco qua Morto Ok ho un'arma Chi devo ammazzare? I giullari? Sì non riesci Non riesci a sparare Voglio vedere cosa cazzo fai Guarda ci sono pure i hippie Clown Questi sono tutti i bastardi Oh merda Oh merda Guarda quanti cazzo sono Ma c'ho altre armi per caso? No 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 Dove vai? C'ho l'MG da combattimento Oh pezzo di merda Ok c'ho comunque l'MG Anche se la versione è un po' più stronza Uccidi clown Li uccido tutti Li uccido Tanto non c'ho vita Ma non si sente nulla C'è un caos incredibile Forza un po' Forza un po' Vieni qua Vieni qua Pam Oh Ma minchia Ma mi sparano con il lanciarazzi Clown Che non Una cosa non ho mai detto Prima d'alta voce Però Evidentemente Oh 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 Morti tutti? Siete delle bestie Siete degli animali? E perché ora Compaierà un dragone? Che è sta roba? Oh meh No cos'è? Una pantera? Tipo pantera? Gorilla? Una scimmia? Brutta roba Brutta roba Un altro gorilla Oddio 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 Oh brutto Oh così si muore Sono morto? Panterina bella Sono morto Oddio Oddio Uccidi la bestia che in te è? Ma cosa vuol dire? Cosa mi stai dicendo mai? Ammazzali Ammazzali Uno Due Dove sono le altre bestie che sono in me Cos'è quello? Un cinghiale? Oh merda Oh merda Guarda Oh Ok Ammazzali scimmie Dov'è la bestia che è in me? Non la riconosco Oh cazzo Guarda come corrono Che robe brutte Che robe brutte Dove cazzo sono? In senso Bel pelosone? Chi è il bel pelosone? Cazzo è quello? Il Grinch? C'è qualcuno? Oddio Che disastro Mori un po' Oddio Oddio Ecco qua Il primo livello è andato Che disastro Ecco qui Questi sono veri Oddio Questi sono veri veri Oddio Questo è tutto Sono tutti croni dello stesso tipo Espondono all'infinito Che disastro Posso prendere per favore L'arma quella forte? Grazie No che almeno Con meno colpi Ammazziamo tutti Ma qui c'è una console E sono morto Uccidi il tuo psicologo Oh mio dio Almeno c'ho vite infinite Meno quello Siamo col bro Lei c'è un altro bro Alcun altro? Dax dammi una mano Non stare di tutto impallato Che disastro Fermo lì Ma che cazzo di psicologo è? Ma questo altro che sanità Questo è il problema del mondo Ecco qua Mori un po' Guarda che io ripeto Oh morti tutti Guardati allo specchio Affrontati E ora devo ammazzare me stesso Ah palese ora Sono io contro me stesso Oh è che non lo sapevo Con le mie armi Tra l'altro Oh ma quella è luce d'ora Eh ora mi fanno il culo Fanno il culo Io sono troppo forte Uccidi il tuo ego Cazzo è? Nice? Ricarica ricarica Infatti che non riesco a mirare Oh con le Dax E sono morto Uccidi il mio ego Oddio dove sono mo? Ma cosa sta succedendo? Una coca cola gigante? Oh merda Non ho capito Dov'è il mio ego? Posso scendere dall'ufo? Oddio eh Non so se è una cosa sensata Forse si? Sopravviverò? Sono sopravvissuto Dove cazzo sono finito? Qui sono tutti nemici? Non tutti Però quasi Allora bro Mi sei proprio un pelatone eh Fatelo dire Mori Oh cazzo Eh sono morto Oh oh Sei sopravvissuto? Ma come? Ma non è vero Mi ha appena tirato un caccio in faccia Non sono sopravvissuto? No sono sopravvissuto Cioè questa era la missione? Eh ma non ho capito Non abbiamo dato un taglio a niente Ecco mi sono risvegliato Passa il tempo Come se fossimo in The Sims Però io non ho comunque capito nulla Ovvia E mo? Allora non è finita qua Non è finita qua Scusa mi aspettavo una cazzina Che mi diceva bro Tranquillo Psicologo è morto Invece no E mo? Ricompensa terapia d'urto Cioè comunque non mi ha dato la mia super auto Dax Che succede? Ok il bro si vuole trasferire In Sud America Dax ha altri piani Vuole rubargli Tutte le scorte E farlo fuori Immagino Che sarebbe anche ora eh Sarebbe anche ora Vorrei dire Missioni molto belle? Non so se molto bene la parola giusta Peculiari Peculiari Particolari Che lo possa essere la parola giusta Oh vai Ecco l'unica cosa positiva è che perlomeno Non mi ha fatto spegare 8000 giubbotti antiproiettile E che visto che ero tutto strafatto Non avevo neanche una vita Infatti Cioè Miracolo che io Abbia vinto la missione Sono morto 80 volte Di solito in queste missioni Se ne muori due E basta È finito tutto È finita lì Allora Pitstop in agenzia D'obbligo Da fare di fornimento Ok Giubbotti max Andiamo di qua Facciamo snack max E siamo operativi Ah no Diciamo già tutti al massimo Fantastico Allora signori Dopo quest'ennesima missione Molto psichedelica Non so se sono fan Di queste missioni Deve essere onesto Non lo so Non lo so Simpatiche? Beh sicuramente simpatiche E sono diverse dal solito Però porca vacca Nascertero su un UFO Che volava Vabbè Comunque Per il momento è tutto Signori e signori Noi ci vediamo presto Sempre qui su Riencil Ciao Turututututti